Siamo qui a Dalmese a un evento delle Fumdenotav con Dana Lauriola. Dana, adesso sei libera, la pena è finita, ma sembri ancora più determinata di prima, anche se più consapevolmente determinata, magari in modo meno passionario, però da quello che sembra tu non sembri assolutamente aver rinunciato alla lotta notav. Ma direi che non è mai stata messa in discussione la forza che sento di appartenenza a questo movimento, anche la passione, è sempre la stessa, è quella che poi ci spinge a gettare il cuore oltre l'ostacolo e a rischiare anche a volte dei pezzi di libertà per qualcosa che è giusto, quindi sono molto serena da questo punto di vista e sicuramente tornerò a fare quello che ho sempre fatto. Grazie. Grazie a te. Un saluto.